Forza ragazzi, questo è un interessante esempio di come l'aiuto a Guzzoli, ma hai visto che? Eh ho visto, però ho visto anche, sembra che è tozzo, sembra che è tozzo, sembra che è tozzo. Montephiese voleva 5 secondi, evidentemente non erano 5 secondi, a Guzzoli da casa sua, la mette la tripla, l'uomo mascherato, da 3, in soddisfazione del campo, e poi arriva la tripla dell'uomo mascherato. Gran palla, gran palla dell'uomo mascherato. Dall'angolo, la tripla dell'uomo mascherato. L'uomo mascherato penetra, appoggia la tabella, mancina, gran canestro, di Thomas. Meno 8, ultima azione, ultimi 10 secondi, 2, 4. E proazona da 3, a Guzzoli, la tripla dell'uomo mascherato. A King. Però? Sì. A Guzzoli. Ah! Italia si ritrova con tanti elementi di esperienza, ma sicuramente senza quel giocatore che è in grado di segnare in queste categorie. Da qua l'uomo. E nera. Eccolo qua, proprio. A Guzzoli che, a me, tira dalla media. Poi lo scarico. E il canestro del numero 0. A Guzzoli. Lo spavento della testata rimediata sul parquet. Qualche minuto fa. Tanto c'è l'arresto, il tiro di Aguzzoli. Quanto punto è consecutivo per lui. Al resto, il tiro di Centani, la sua specialità, ma questa volta il tiro non va. Ma invece è come il... Aguzzoli. Da incorniciare per Filippo Cicconi Massi. Scarico a Guzzoli. Quella la finta, conta spasso tutti. Al resto, il tiro. Poi Aguzzoli spara da tre a tutto tempo per caricare. E con un po' di fortuna riesce a mettere questa tripla. E con un po' di fortuna riesce a mettere questa tripla.